Siamo a Roma, ristorante Seaside, in compagnia dello chef Dario Tornatore. Questa sera è una serata che abbina all'eccellenza assoluta del Made in Italy, il cibo e il buon vino. Allora, Dario, intanto come nasce il senso di questa serata? Beh, stasera ho messo la mia cucina al servizio di questi meravigliosi vini, quindi tutto è stato studiato per esaltare al massimo questa nostra eccellenza italiana. Quindi nel nostro ristorante facciamo solo pesce, quindi bollicina abbinata alla mia cucina, è una cucina molto semplice, fatta di materie prime d'eccellenza. Per dirne qualcuna, stasera presenteremo una lumaca di mare un po' particolare, nonché una gota di rospo, con un olio fatto da noi, un olio un po' particolare, un olio nero, un olio extravergine di oliva fatta da olive taggiasche. L'importanza di questa serata è cercare di trovare l'abbinamento perfetto, l'equilibrio tra un ottimo vino e un'ottima cucina. Quindi è stata una bellissima esperienza la possibilità di avere qui anche il produttore del vino Ferrari. Una serata molto particolare questa. Sappiamo che sarà anche una serata che oltre un tema avrà anche delle rappresentanze a livello di giornalisti. Qui diventa importante parlare di quando il cibo comunica. Comunica non solo quella che è l'essenza di uno chef, quindi tutta la sua creatività, ma comunica anche proprio la sua stessa essenza. Dario Tornatore come sceglie le sue materie prime per poi elaborarle e presentarle, non solo alla stampa ma alla sua clientela? Come nel mondo del vino, in ogni bicchiere ci sono dietro le persone, quindi questo è molto importante per me anche nella scelta delle materie prime. Una materia prima che ha un nome e cognome di chi la fa e di chi ci mette la passione e una vita intera dietro. Quindi la mia cucina è principalmente passione, cercare di riscoprire quelli che sono i sapori che mi appartengono da quando ero piccolo e il mare poi sta nelle mie corde, sin da piccolo sono napoletano. Praticamente è una cucina molto semplice ma allo stesso tempo che cerca di dare emozioni e cerca di far riscoprire quelli che sono... è la semplicità, quella che è la semplicità. Questo ci piace molto, ultima ma non ultima Dario perché poi so che la cucina ti aspetta e io ti chiedo, secondo te, come viene comunicato oggi il cibo attraverso i giornali e attraverso i media? Si pecca in qualche cosa, si eccede in qualcos'altro? Qual è la tua opinione? Beh, c'è da dire che in questo periodo la cucina è al centro proprio dell'attenzione mediatica di tutti noi quindi questo secondo me sta facendo molto bene perché sta portando ad educare quelli che sono i palati della gente normale, di noi insomma che tutti i giorni cuciniamo in casa quindi ben venga la conoscenza, ben venga l'approfondire e la passione la passione che c'è dietro, viene sempre più fuori, quindi finché c'è risonanza, bene, è un bene.